lo stig originale è lui quello vero lo intervisteremo anche e ci dirà chi è ci scommettete guardate tutto il video o è quello vero ve lo abbiamo portato in carne e ossa ma potete vederlo tutti lunedì alle 21.30 su spike nelle nuove puntate di top gear sul canale 49 del digitale terrestre siamo qui a milano con stig l'icona di top gear allora stig cosa ci puoi dire di questa nostra bellissima città cosa ti è piaciuto ma forse non parla italiano parla inglese so stig what can you tell about this city what did you like the most niente non è cosi what does it mean to be a the stig you know you're like a superhero but you can tell the your real identity it's 20 body what can you tell about modern car they are very powerful they have got something like 1000 of horsepower but they've got also some electronic stuff don't don't you like which car give you your hardest time and which one you enjoy the most so the last question who you are in real life who is the stig I have the answer I wanted so 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 Grazie a tutti.